Extraville è una sfida per la piattaforma dell'Istituto perché vuole confermare, riattualizzare un'attenzione ai confronti dei nostri siti straordinari, aggiornandola con le istanze della contemporaneità. Ritengo che dei luoghi che sono stati incubatori della loro epoca per un linguaggio sperimentale e diversivo devono essere seminali e hanno anche un dovere di proiettarsi sia nel presente che nel futuro. Questa è una grande sfida per quanto mi riguarda perché vuole far sì che dei monumenti, dei monumenti di picmare di grandezza diventino anche delle fucine culturali, dei cantieri dove si produce cultura, dove in qualche modo si vogliono ipotizzare nuove narrazioni, nuove scale di interpretazione, nuovi percorsi. Io credo che questa sia la grande sfida dei beni culturali nel nostro paese perché in qualche modo li aggiorna, in qualche modo li avvicina alle istanze e alle problematiche della nostra contemporaneità dando delle ipotesi, se vogliamo, di salvezza attraverso la bellezza e la ricerca continua.